Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Prima dose del vaccino Moderna questa mattina per il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il Governatore ha fatto anche il punto sulla campagna vaccinale. Andrea Pierini. È arrivato poco prima delle 9 al centro vaccinale di Muggia, di Asugi, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che dopo le pratiche ha effettuato la prima vaccinazione con Moderna. Si è appena potuto, mi sono vaccinato. Ho detto che rispettavo ovviamente le tempistiche, ma quando fosse stato il mio tour, oggi l'è stato, mi sarei vaccinato. Ho dovuto fare anche, spero che la gente capisca, che è importantissimo partecipare a questa campagna. Oltretutto, anche se la seconda dose dovesse capitare nel periodo estivo, ricordo che comunque c'è una variabilità per la somministrazione delle dosi. Si va per i vaccini mRNA da 21 a 42 giorni, quindi anche c'è un lasso di tempo in cui non si può organizzare. Sorridente, nessuna paura, un'attesa solo un po' più lunga dopo la puntura a causa di un'allergia. A breve, verosimilmente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, dovrebbero aprirsi anche tutte le agende. Guardi, io sento quotidianamente più volte al giorno il generale Figliuolo, in cui c'è un ottimo rapporto con le regioni perché è grazie alle regioni che si è raggiunto questo numero importante di vaccini giornalieri. E questo lo voglio sottolineare, l'organizzazione è fatta dalle regioni con i servizi sanitari e dalle regioni. Oltretutto credo che le regioni stiano rispettando di fatto tutto il programma vaccinale nazionale. Se dopo, come giustamente veniva detto, è utile ampliare dei target per non lasciare vuoti nelle agende vaccinale, siccome è giusto farlo, è corretto confrontarsi ovviamente con la struttura commissariale, più che altro per comunicargli anche le esigenze di vaccini e come sta andando la stessa. Ecco, però insomma, penso che tutte le regioni stiano cercando di fare del proprio meglio, non a caso i numeri oggi ci dicono che l'Italia è uno dei paesi che fa più vaccini. Dubbi su un possibile obbligo al netto di quello per gli operatori? Sono favorevole a convincere le persone a vaccinarsi. Mi piace più convincere che costringere. Spero però che tanti siano convinti, perché ne leggo di ogni cosa sui social, addirittura gente che si organizza per andare a bloccare o a cercare di intasare i profili di chi dice che è giusto vaccinarsi. Siamo fortunatamente su un esigoma noranza, però rischiano di fare molta confusione, soprattutto tra quelle persone che magari non avrebbero dubbi a vaccinarsi, ma se li fanno venire perché c'è gente che scrive cose strane, dei rischi ed altro. Nel frattempo, dal lunedì, tutta l'Italia sarà in zona gialla. Il Friuli-Venezia-Giulia, con la seconda incidenza più bassa tra le regioni dopo il Molise, deve confermare il trend un'altra settimana per passare al bianco dal 1 giugno. Intanto è stato trovato l'accordo sul Green Pass europeo che entrerà in vigore dal 1 luglio. Il passaporto vaccinale resterà in vigore 12 mesi. Con un indice RT a 0.66, un'incidenza di 24 casi ogni 100.000 abitanti e con l'occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive e nelle aree mediche, rispettivamente del 9% e del 5%, il Friuli-Venezia-Giulia si prepara a traguardare la zona bianca. Per il passaggio dal 1 giugno sarà necessario mantenere questo trend per un'altra settimana. Intanto tutta l'Italia è in zona gialla. L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha fatto sapere che le ordinanze di oggi renderanno lo stivale monocolore. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia, sono tutte a rischio basso le regioni e le province italiane, con RT inferiore a 1, quello medio nazionale di 0.78. Solo la provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta di resilienza. Il livello di ricoveri è ovunque sotto la soglia critica. La Sardegna è la regione italiana con l'RT più basso 0.61 e si prepara così al ritorno in zona bianca. Il Molise è la regione con l'incidenza più bassa, 20 casi ogni 100.000 abitanti, seguita dal Friuli-Venezia-Giulia con 24 casi. I dati per provincia sono di 12 casi a Udine, 28 a Pordenone, 32 a Gorizia e 44 a Trieste. Intanto è diventato realtà il Green Pass europeo, grazie all'accordo trovato da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo. Il passaporto vaccinale entrerà in vigore il 1 luglio, sarà disponibile in formato digitale e cartaceo e certificherà la vaccinazione, l'avvenuta guarigione dal coronavirus o l'esito negativo di un test. Resterà in vigore per 12 mesi. In base all'accordo, i paesi UE devono accettare i certificati vaccinali rilasciati in altri stati membri per coloro che hanno ricevuto i vaccini approvati dall'EMA, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Veniamo al Giro d'Italia. Oggi l'arrivo sullo Zoncolan. Ieri serato speciale a Tolmezzo per celebrare l'arrivo del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, Gilberto Simoni, duplice vincitore sullo Zoncolan. Il Vicepresidente Riccardi ha sottolineato l'importanza della tre giorni rosa, simbolo di ripartenza. Vicepresidente Riccardi alla vigilia di tre giorni che saranno ancora in rosa per il Friuli Venezia Giulia, ha detto un segno di ripartenza, poi in tutti i sensi, insomma, per una terra, ripartenza dopo una pagina che stiamo ancora vivendo ma della quale si vede la luce. Io credo che lo Zoncolan diventerà simbolo anche di questo perché questa è la prima grande manifestazione che si fa all'uscita da questo tunnel e abbiamo lavorato molto per le regole, per i protocolli tutti insieme, quindi speriamo davvero che sia un esempio ancora una volta e che ci farà ricordare quello che abbiamo vissuto cercando di farsi capire il perché di tante cose e che dimostri ancora una volta come questa terra può essere davvero all'attenzione del mondo. Da questa serata cosa porta personalmente a casa? Porto tante cose, porto il valore di un grande campione come Gilberto Simoni che si dimostra un campione della vita e soprattutto credo il valore più importante che porto è l'esempio di una squadra. Abbiamo visto le istituzioni unite, abbiamo visto lo straordinario mondo della nostra protezione civile, il soccorso alpino e tutte le componenti che hanno consentito ancora una volta di arrivare a questo risultato. Quindi è sicuramente il modo migliore per riuscire a raggiungere questi risultati e non posso dimenticare che però le squadre hanno bisogno di un capitano e in questa occasione Enzo Incainero ancora una volta ha dimostrato di esserlo a pieno titolo. Nel corso della serata è stata anche svelata la nuova seggiovia dello Zoncolan che sarà marchiata a Giro d'Italia. Ogni seduta sarà dedicata a un ciclista e la prima è stata firmata dallo stesso Simoni. Assessore Bini, alle sue spalle quella che è stata la sorpresa di questa serata che ha conquistato tutti. Lo vediamo è diventata la giostra della serata. Eh sì, abbiamo voluto proprio presentare oggi, questa sera, questa meravigliosa seduta con i colori del giro rosa che andrà a comporre la nuova seggiovia a sei posti, peraltro unica in regione Friuli-Venezia-Giulia che verrà intitolata al giro proprio eh d'Italia. Quindi una regione Friuli-Venezia-Giulia sempre avanti, sempre all'avanguardia. Insomma, siamo un passo avanti rispetto agli altri. Poi dicevo prima, stiamo investendo tanti soldi, molti soldi, dieci milioni di euro sullo Zoncolan. Siamo ben consapevoli di quanto importante questo brand sia per il Friuli-Venezia-Giulia dal punto di vista della promozione. Quindi stiamo spingendo. Ecco, come i ciclisti che devono affrontare una pendenza del 20%, anche la giunta Fedriga sta spingendo sulle gambe per ottenere grandi risultati. Abbiamo aperto questa sera con un video carne e montagna 365. Insomma, tutto l'anno ci sarà la neve, quella che quest'inverno non è stata sottata, ma che poi ma ci sarà anche l'estate che sta arrivando e che sarà una stagione importante per la montagna? Beh, dei 10 milioni di euro considerate che quasi 2 milioni li andremo a spendere per la montagna estiva, per appunto garantire offerte, servizi. Abbiamo provato la scorsa estate, seppur in quel breve scorcio quanto è stata ricercata, quindi è continuare così. La gente ama, la gente apprezza, la gente viene. Dobbiamo garantire i servizi. Voltiamo pagina. La pandemia, come ampiamente previsto, ha portato a un aumento della povertà a Trieste, dal bilancio dell'attività di Caritas emerge un quadro di mille poveri in più. Sentiamo. C'è la storia di Mario, 20 anni e quasi tutti contrassegnati da depressione e problemi personali. Sergio, che ha perso il lavoro a causa della pandemia e si è rifugiato nell'alcol. Maria, anziana, che ha chiesto aiuto per poter tornare a messa. Khaled, che ha camminato dieci anni per cercare un futuro migliore negli ultimi sette giorni e ha mangiato solo neve. I nomi sono di fantasia ma le loro storie sono vere e sono solo alcune di quelle contenute in Non ce ne siamo lavati la mani, il report annuale della Fondazione Caritas di Trieste. Rispetto al passato i numeri sono riferiti al periodo marzo 2020 fino ad aprile 2021 e rapportati al prepandemico. Le persone supportate sono salite del 13,3% arrivando a 6.500 a cui si aggiungono 2.000 assistiti dalle parrocchie. I nuovi poveri sono stati il 70% con una crescita di 1.000 cittadini rispetto al passato. Gli operatori hanno rilevato un aumento dei giovani 18-34 anni e non solo migranti ma ragazzi senza lavoro. Sono aumentati anche i residenti che si sono rivolti all'emporio della solidarietà e di chi non riusciva a pagare le bollette. Al momento i migranti accolti dalla rotta balcanica sono 2.736 con 162 minori. Don Alessandro Amodeo direttore della Caritas ha voluto sottolineare come non ce ne siamo lavati le mani come insegna Papa Francesco e non ci siamo girati dall'altra parte davanti alle difficoltà. Il Vescovo Monsignor Gianpaolo Crepaldi ha posto l'accento sul lavoro dei volontari. Ed è un grande insegnamento. Io ci trovo soprattutto lì. Un segnale di speranza di fiducia e di incitamento ad andare avanti perché il bene c'è. insieme a 17 città italiane partecipa da ieri alla Biennale di Venezia come un progetto sulla resilienza con un piano che porta a ripensare a fronte della pandemia il rapporto tra il territorio e la comunità che lo abita. È Aquileia. Aquileia alla Biennale di Venezia. Sì una riconferma anche questa di un grande lavoro che è stato fatto durante la pandemia dalla Giunta Comunale che ha allestito un progetto per la ripartenza un progetto denominato Slo Aquileia che sarà diciamo uno dei capisaldi del padiglione Italia all'interno delle 18 città resilienti d'Italia ed è stato scelto appunto per rappresentare un momento molto particolare dopo la pandemia le città le comunità si apprestano a ripensare quello che è il rapporto fra il territorio e il cittadino. Noi durante la pandemia appunto abbiamo lavorato su diversi tavoli con tutti gli enti territoriali che insistono sul territorio da questo ne è scaturito appunto questo progetto importante che appunto verrà presentato alla Biennale venerdì 21 saremo appunto a Venezia io e il vice sindaco Vazzoler come testimonianza testimonianza che anche piccole comunità in particolare anche una piccola regione come la nostra che è il Friuli Venezia Giulia può essere un esempio per quello che è il modo di ripartire Che cosa ci sarà in questo padiglione? In padiglione appunto vengono presentati queste 18 progettualità di 18 città medio grandi e anche piccole qui lei è una delle più piccole e verranno raccontate come urbanisticamente si può agire su quello che è anche un'azione di governo del territorio non ci sono altre notizie vi ricordo appuntamento alle ore 15 e 30 Giro d'Italia saremo in collegamento in diretta seguite quindi Telefriuli intanto vi auguro buon pranzo grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti